ciao a tutti amici sto facendo un nuovo video dopo il colpo che ho fatto la stanza dato un po troppo la voce a parlare un po più piano ormai le lavagne sono tutte bianche quindi preparerò poi il colpo quello pesante d'assalto i soldi mi ha dato adesso 10.000 meglio metterli subito sul conto 36 milioni e piano piano sto recuperando adesso c'è un po di macchine da vendere già piena no perché il video è partito dopo avevo visto eravamo 7 8 e già tutta riempita sembra che va tutto bene adesso i server mi sa che sono i nostri italiani forse perché sono tutti al computer non dorme più nessuno questo virus quattro e quindici minuti ma porca era eroe alziamoci cosa faccio devo passare un quarto d'ora allora quindi devo aspettare un quarto d'ora faccio un bel sopralluogo al casino e preparo così il quarto colpo dove sto andando Alla cosa stava mai qui. ok allora ok da fare sopra il luogo casino i Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Adesso Lester mi comunica le cose. Vediamo se becco qualcosa. In più mi mancano degli sblocchi. Sblocchi punti di interesse e... E' un'altra cosa, dicevano, vediamo che c'è qua dentro. E' un'altra cosa. 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 cancelliamo no esco tanto qui tutti che ciucciano niente sopra ho fatto tutto cos'è un carro armato guarda questo però è bello è bello questo carro costa un sacco di soldi guarda che canna ma che roba è fatto bene non è brutto guarda 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 G'day boss, this is your captain speaking. Captain Brendan Darcy, you know, on your enormous superyacht, you do remember you've got a yacht, right? Well anyway, look, I don't mean to gripe, but things have been getting pretty hectic. Basta, basta, basta. Well, I'll do a lot of things. Allora, adesso faccio i contenuti del cavo. Okay, here we go. Let's find out what's in that vault. First, we need someone with the right login credentials for their security system. I tracked the rough location of a member of Duggan security team using his phone signal. Head over there and find him. All three, I see. Three players at the maximum red. Basically, you arrive like this when you hit a lot of players. I see you in the next door. I see you in the next door. I see you in the next door. Yeah. Let's go. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E adesso vediamo com'è la situazione. E' ecco la guardia. È sbaglio che ho tirato un cazzato. La guardia è lui. E' ecco la guardia. E' ecco la guardia. E' ecco la guardia. Un po' su così. Penso che il carro armato non viene qua su. Cioè cos'è? Prima che viene qua su ti mette una mezz'ora. E' ecco la polizia. E' ecco la guardia. 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 Grazie a tutti! 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 La è un piccolo cavo e secondo me si riempie due volte. È andata, lo trovi pieno e secondo me anche al ritorno perché sono gli incassi del casino che li mettono lì. Quindi faccio ESC adesso, secondo me si riempie due volte, però non posso farlo perché non ho amici italiani. Quindi come glielo spiego a questi qua? C'è un po' l'inglese lo so un po' l'inglese lo so un pochettino ma non più di tanto. E' un po' l'inglese lo so un po' l'inglese lo so un po' l'inglese lo so un po' lì. Non riesco a vedere dietro. Vediamo cosa dice che modello lo so un po' l'inglese lo so un po' l'inglese lo so un po' l'inglese. E' la... Adesso ve la faccio vedere qui. Andiamo qui a questa. Andiamo un po' giù. Potrebbe essere proprio questa qui. Vedete? Parte il casino. Davanti c'è una T 2.325.000 vediamo. Sì è lei. 2.325.000 senza modifiche. Poi ci metti tutto, motore. Guarda questo. Perché io ho lasciato il motore acceso. No? Ho lasciato il motore acceso perché sono in missione. 27 minuti quindi la macchina posso andare a venderla una. E stacco il video qui poi ne faccio un altro di mezz'ora arriva questo con l'aereo a rompermi i coglioni guarda guarda questo questo scema niente quando ci sono questi qui avete visto? Con i missili non fa un cazzo mi salva la pelle e il blindon lascialo venire e comunque se è scheggiato sopra il caccia anch'io ce l'ho l'idra è potente è potente ok allora la prima mezz'ora di video ho fatta e così faccio vedere piano piano con i video ok vedete ha già messo la spunta e poi devo scegliere l'approccio lo posso fare già da adesso vedete vedete io adesso faccio e l'approccio scelgo questo qui ok un colpo ad armi spianate aggressivo si ok informazioni ah si mi divido e lo faccio adesso perchè sono ormai qui se no ok allora è tiratore vediamo car abulai no 9 7 10 questo no ok metto questo però mi ruba soldi eh però ci aiutano di più vediamo che c'è adesso nell'altra 5 7 3 9 eccola qui c'è page ok adesso che c'è i con i prossimi video faccio tutte queste cose qui tutto tutto e poi si tranne questa qui eccola qui misure di sicurezza perchè nel mio telefono questa becker non non esiste non so neanche che faccia quindi non c'è vedete non esiste questa becker ok il video primo video finisce qui di questa nuova nuovo colpo aggressivo che sarebbe poi il secondo eh il primo è andato male non so forse era un bug non abbiamo preso un centesimo zero per me era un bug ok ciao a tutti joker chiude al prossimo